Attenzione Fiorentina vicinissima al raddoppio dopo aver segnato l'1-0 proprio in questa stanza Ah Fiorentina! Un altro miracolo di Andanovic, la situazione sta diventando molto pesante per l'Inter Vedo l'appo De Carlo veramente attapirato Ah Fiorentina! Dobbiamo dire la verità purtroppo, l'Inter nei primi 17 minuti ha beccato un gol E Andanovic ha fatto due grandi parate Ma ti ricordi cosa dicevano i due Muppets? Chi sono i due Muppets? Più il Barbone? Sì Ti ricordi cosa dicevano? Cosa dicevano? L'abbiamo messo in fuorigioco e quindi non abbiamo uno in scatola Ma anche poi lo facciamo per sentire E noi a dirgli guarda che il primo fuorigioco non te l'hanno fischiato Il secondo l'hanno fischiato e questi stanno continuando a giocare No Marcello tu l'hai sentito E no ma l'attenti ancora la Fiorentina pericolosa L'Inter sembra la Mercedes viola in questo momento Io me l'avevo dito Jovetic lì dell'aria, tiro, gol! Gol di Jovetic Gol di Jovetic, strepitoso Ed è caro un giro di stanza Fiorentina Un gol strepitoso di Jovetic E come diceva lo sciagurato Piaccettini meglio prende un gol subito A condizionare che non ne prendi un secondo dopo L'onda Moretti che è gol di Jovetic Io non vorrei indulgere ma le foto, l'immagine del quartetto c'è tra la mia destra nerazzurro E' assolutamente indicativo Un gradissimo Ti giuro che ti rompo l'iPad e sai che lo faccio se lo spegni subito Guardateli La Fiorentina Guardateli qui, ecco di uno dopo l'altro Policastro, Piacentini, Lapo De Carlo Un altro uomo distrutto E' più tranquillo Ma lui è ancora tranquillo La classe, la plomb degli uomini di cultura, di genio, di scienza Tra un po' anziché mettere l'abbraccio No, gli altri siano ignoranti, si è chiaro Allora, che cosa succede? Succede che per l'ennesima volta Noi dobbiamo dire questo La Fiorentina si è presentata più volte su altre quarti dell'Inter Facendo sempre la stessa cosa Cioè, cercando l'1-2 di incrociare, di entrare in area E spesso ha tirato Io non so, lo vedete sopra Corner 0-1, possesso palla, vedete 64% 36% per la Fiorentina E anche i tiri in porta 5-0 fuori e 3-1 in porta Non può essere accettabile questo E parte Alvarez Parte Alvarez Ci mette un quarto d'ora a arrivare sulla palla Fa anche fallo Su Borga Valero Ma come si fa a giocare con uno che corre così? Non è vero Non è vero Non te la passo questa Leluca Non ha fatto così, non è vero Attenti alla Fiorentina a destra E sono tre Terzo go Coppietta di Jovetic, prego il collega Ed è una punizione La punizione peggiore è questa Sta in grado per Eira, per Guarini Questa è ancora peggio Invece se lo merita Guarini Si deve fare un bagno di umiltà Ho capito ma deve uscire poi Ah, perché? Allora, allora Dunque era un fallo di giro enorme Come è stato? Scusami Fabio, ed era anche Pizzarro che era già monito C'è un fallo di mano di Pizzarro? Ma sì Cioè l'Inter perde, ok, perde 3-0, 5-0 Però se c'è un fallo c'è un fallo Allora, allora È spulso Juan Jesus? No, no Calma ragazzi, calma, calma Sto accendo di tutto in campo Grandi proteste La Fiorentina chiede dato Juan Jesus Allora Si spintona un po' Si spingono tutti Allora, spingono tutti Vediamo cosa succede C'è punizione per la Fiorentina Vediamo però Siamo vicini al limite Rale di regola dell'Inter Rizzoli si allontana La Fiorentina chiede rosso Juan Jesus anche ha monito Vediamo Vediamo Rizzoli però mi sembra che Propenda Si danno poi un buffetto Iovetic e Juan Jesus Si spiegano Allora, il gol E anche qui un'incredibile infortuna La difesa dell'Azzurra Che per voi è un grande Gli ha dato, eh, la comitatina Eh, caspita Ma non sulla spalla Ha monito, infatti, Juan Jesus Sopra la spalla Allora, guardate Eccolo qua E' un lancio in area di rigore Arriva in anticipo Nagatomo che rinvia Il suo rinvio però C'entra un giocatore dell'Inter Non so chi fosse Se Kuzmanovic, insomma Che non si scassa La palla gli rimbalza addosso Finisce qui dove Aquilani Con un copio di tacco straordinario Mette il pallone sui piedi Di Iovetic Il quale è in posizione regolare Perché c'è Nagatomo qui Solo davanti al portiere Diagonare Tanto per questa camicata C'è un calcio di punizione Molto preoccupata Poi Ghiacci il tiro Qualcuno Hai ragione Lapo Ah hai ragione Scusa Hai ragione Lapo Siamo solo al ventesimo 4 a 0 Un'umiliazione Stramaccioni Grazie Lei avrà un grande futuro Però io penso C'è anche ora di dire Quando ve lo dicevo io Quando ve lo dicevo io No Non lo fanno Ma che vergogna L'ha voluto Moratti L'onda Moretti Questo lo cacciano L'onda Moretti Con quella che si chiama Inter Ma che in campo È una squadra Permettetemi di dire Imbarazzante Per non dire ridicola Allora Ancora Piorentina Che è qui Gioca senza problemi Il pallone viene girato Qui agli ali Gli ali scontrolla Alza la testa Vede Andanovic qui E può partire un tiro A giro In ali di rigore Ecco Senza Che si sacca Senza problemi Ranocchia lo guardava Da distante 4 a 0 Un Scusa Facciamo il titolo Che rischia Si dovrebbe Agli ali c'è quello Di Devio Rossi C'è proprio lui Agli ali c'è quello Che è stato bombazzato Ti direbbe subito Zanetti cambiasse Fanno panchina Se vuoi che vengono Tenti all'Inter Tenti all'Inter Tenti all'Inter Tenti all'Inter Gol di Cassano Lui va Rimontola Quattro pari Quattro manchi Questo è un bel gol Dai Gol di Cassano Grazie Cassano Durerà 20 minuti Però l'unico che ha il colpo Di fare gol così È l'unico È Cassano Londra Moletti Ve lo faccio vedere Cassano C'è un bel gol Pazzini più 7 milioni e mezzo Che fa panchina al mio Ma chiede Cassano riceve palla qui Nessuno si fa incontro Perché non pensano che tiri Prende una rapida rincorsa E esplode letteralmente Un gran sinistro Credo La palla si insacca Proprio fil di palo E un grandissimo gol Di Cassano Questo è l'unico giocatore Di tecnica che abbiamo La faccia di Stramacione inquadrata a pezzi Completamente a pezzi Stramacione deve pensare Dai ce la rimonta adesso Dai Non è caso di fare Della facile eronia Marcello Questo Ogni partita è diversa No andiamo a casa tutti È finita Ecco il clown Allora Io ho fastidio solo Per il fratello più piccolo È contrato Eh vabbè Non possiamo definirlo così ragazzi Calma Guardi un attimo al Franchi Al modo diciamo un po' Antipatico Antipatico Diciamo così Sultate Prego Come Andiamo un attimo al Franchi Ma era bello l'ha ipad L'ha ipad Devo dire che l'ha ipad Comunque era bello Comunque Beh ma ha ragione Adesso veramente Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ma un mese e me Mezzo fatto No Il Milan là dietro No Adesso il Milan tu lo guardi Dal basso verso l'alto Guarda la classifica Guarda la classifica Eeeh Quello che state facendo Vi prego Vi prego Basta 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 Allora I media sms Ne rassunti